Care amiche ed amici, qui il vostro San Ten Chan che vi parla dal vivo. Ero intenzionato a fare un video per YouTube, ma innanzitutto gli ultimi miei video non hanno riscosso così tante visioni. E poi oggi non mi andava di prepararmi, di preparare il set per fare un video. Quindi siccome è da molto tempo che non faccio un radioprogramma per Sprecher, soprattutto un live, spero che molte e molti di voi mi seguano perché ho un interessante argomento di cui parlarvi. Così come nel 2013 ancora mi chiedo quante e quanti di voi faranno qualcosa in questo momento o chissà che state facendo. Perché adesso che sono le 17 e 13, sì 17 e 13 più o meno, chissà forse starete portando i figli a scuola, forse andate al ginnasio, a fare ginnastica, alla palestra, forse ritornate da scuola voi stessi, dall'università e chissà. Però una cosa è certa, che inizia a parlare perché Sprecher non è più come nel 2013 che ci dava un'ora per registrare, una mezz'ora del cellulare e un'ora dal computer. Adesso tanto dal cellulare come dal computer ci dà 15 minuti. Io sono disoccupato e devo registrare gratis. Bene, passiamo al tema del giorno. Scusate l'introduzione, ma è per quante e quanti di voi mi ascoltino per la prima volta che non mi conoscono, che magari dal live saranno solo gli iscritti al mio canale ad ascoltarmi, che molti non parlano neanche in italiano, ma magari mi ascoltano per imparare l'italiano. Quindi cerco di parlare chiaro e forte. Dicevo, il titolo è che in Italia ogni anno buttiamo tonnellate, non so se decine o centinaia di tonnellate o migliaia di tonnellate di oro al mare. E molti di voi già vi starete chiedendo, soprattutto se avete letto il titolo, di cosa sta parlando Sant'Encian, il sottoscritto. Ebbene, lo aveva detto Piero Angela, non credo in Superquark, ma addirittura in Quark negli anni 70 ed 80, che al contrario di molti paesi, non solo dell'America, per esempio Stati Uniti, in Alaska, in Seattle, nello Stato di Seattle, nell'Ovest, la famosa febbre dell'oro, ma anche in Canada, ma addirittura nel centro e nord Europa e nei paesi slavi. Lo Stato vende delle licenze ai cercatori d'oro perché vadino a cercare l'oro, che non tutto l'oro sta in giacimenti, in mine sotterranee, ma emerge dalle fonti d'acqua e quindi dalle sorgenti d'acqua e anche dalle sorgenti degli acciai, cioè dai ghiacciai si può sprigionare e liberare del polviscolo d'oro. Quindi in altri Stati i cercatori d'oro raccolgono molto oro e quello viene immesso nell'economia. Per la microeconomia locale sarebbe una vera manna, perché ci sarebbero centinaia di cercatori d'oro nei fiumi d'Italia che potrebbero trovare una fonte di guadagno loro e di mettere oro nel mercato. Invece in Italia, ormai dagli anni 70-60, da sempre, non si è mai venduto una licenza a un solo cercatore d'oro. Praticamente, senza nessun ostacolo, senza nessun filtro, barriera, l'oro che sta nei fiumi italiani, che viene trasportato dai nostri fiumi italiani, l'oro che viene da sottoterra, da corsi d'acqua sotterranei o da sorgenti di montagna, che abbiamo montagne ricche in minerali fra cui l'oro, non viene filtrato o setacciato da nessuno e va a disperdersi nel mare. In sé non si tratta di pepite enormi o di grandi lingotti che viaggiano nel fiume, si tratta di polviscolo, però si tratta, come disse Piero Angela in un suo Quark o Super Quark, si tratta che all'anno il Po e altri fiumi importanti d'Italia, incluso il Tevere, rilasciano tonnellate di oro e di altri metalli e minerali preziosi nel mare, dove si disperde ulteriormente e quindi non si può più recuperare. Cioè se l'oro presente in un corso d'acqua è per microgrammi o milligrammi ogni milione di metri quadrati, immaginiamoci poi quando si disperde nel mare quanti microgrammi ci saranno ogni centinaia di milioni di metri cubi di acqua. Quindi una volta perso il mare l'oro è irrecuperabile, perché si tratta di polvere d'oro, non si tratta di chicchi grandi come noci o come mele. Allora, immaginatevi, almeno prendendo in considerazione gli anni 70, 80, 90, il 2000 e 10, mese dopo mese, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, le tonnellate che si sono accumulate nel mare dai nostri corsi d'acqua. E' veramente impressionante. Partendo da questo dato si ha che veramente migliaia di tonnellate d'oro avrebbero potuto aiutare a correggere più di un bilancio pubblico nazionale. E invece non si è fatto nulla in merito. Lo so, ci sono altre cose più prioritarie. Però questo ci fa vedere come da sempre, non da oggi o da ieri, ma dal dopoguerra e forse anche da prima del dopoguerra, da prima della seconda guerra mondiale, da sempre. Per esempio nel caso dei cercatori d'oro sono scarseggiati in Italia. Cercatori d'oro di fiume e di corsi d'acqua. Quindi da sempre ci sia stata in Italia disorganizzazione, improvvisazione, non si siano programmate determinate cose come hanno fatto non solo negli Stati Uniti e in Canada, negli Stati Uniti nel famoso Klondike, con la febbre dell'oro, ma anche in paesi insospettabili come Olanda, Svezia, Svizzera, Germania, Francia, Belgio. Ci sono dei cercatori d'oro in quei paesi. Non si tratta di un fenomeno massivo, anche perché quello che si guadagna è poco. Molti contadini poi non hanno bisogno di licenza per setacciare i corsi d'acqua che passano per i loro campi. Quindi in Italia, sappiatelo, se voi avete un apprezzamento o un demanio terreno, un campo per il quale passa un corso pluviale, un corso d'acqua, un fiume, un ruscello, avete un lago, se lo setacciate l'oro è vostro, perché viene trasportato nella vostra proprietà. E quindi poi potete andare da un gioielliere, da un orafo, con le pepite d'oro, che a volte sono piccole un millimetro, perché è oro sporco. Non è lo stereotipo dell'oro pulito, che viene già brillante come da gioielleria. E sembra fango, sembra fango brillante. E a volte, se trovate una pepita, sembra fango calcinato, e sembra di rame, color rame, bronzo scuro, calcinato, bruciato, si sgretola fra le mani. Come avete visto quando gli date da mangiare ossa al vostro cane, che fa una cosa calcinata, perché è tutto calcio digerito. Bene, le pepite hanno colore rame, colore bronzo scuro, ma sono friati, che si sbriciolano. E quindi invito a tutti e tutti voi, che avete dei campi, che state in mezzadria, a cercare l'oro nei ruscelli, nelle fonti d'acqua sotterranee, nei laghi, che stanno nel campo, prima che venga assorbito dalla terra, o venga buttato a mare dai corsi d'acqua stessi. E invito tutti e tutti voi, che lavorate nelle vicinanze di un fiume, che siete interessati a cercare l'oro, come complemento per il vostro stipendio, soprattutto se lavorate già in corsi d'acqua, in fiumi, oppure come complemento del vostro sussidio di disoccupazione, a riunirvi, a convocarvi in internet e a firmare delle petizioni, perché lo Stato italiano dia delle concessioni per cercare l'oro nei corsi d'acqua, nei ruscelli, nei fiumi, perché è logico che negli Stati Uniti devi pagare una tassa per cercare in fiumi e in corsi d'acqua, a meno che tu non abbia un campo per il quale passa un corso d'acqua. Però le probabilità che qualcuno a monte cerchi l'oro sono alte, quindi magari nel tuo campo non passa l'oro. Così come ci occorrono delle licenze per pescare, ci occorrono delle licenze per cercare l'oro. E si comprano a periodo, a stagione, oppure anche per 15 giorni, per 20 giorni, per una settimana, per un giorno soltanto. Ecco, se lo Stato vendesse licenze, innanzitutto incasserebbe il denaro dalle licenze per cercare l'oro. E poi l'oro entrerebbe in circolo nell'economia, perché uno non è che si tiene la polvere d'oro in casa, fa che ne trovi 100 grammi o un chilo, che poi bisogna depurarlo, perché è pieno di scorie. Quindi non è, se trovi due chili di polvere d'oro, non è oro puro al 100% che c'è i due chili d'oro. Trovi due chili che c'è tanto oro come zozzerie e altri minerali, metalli, cose varie. Anche terra. E quindi una volta che si pulisce, cioè si mette tutto quello in un fornello per fondere i metalli, e lo si manda alla temperatura progressivamente che serve per fusionare l'oro, via via le scorie e gli altri metalli si fusionano prima dell'oro. Quindi hanno un processo per il quale, non so, si può pulire dall'alluminio, che anche l'alluminio ha un suo valore, e si estrae l'alluminio dal forno. Poi si manda a temperatura per lo stagno, per il piombo, per il ferro, per anche il silicio, per tutti i minerali e i metalli, bronzo, rame, stagno, no, lo stagno no, è una lega, scusate, l'alluminio, il rame, lo stagno no perché è una lega, mi sono confuso, argento, e fino a arrivare alla temperatura di fusione dell'oro, non si arriva subito, altrimenti assieme all'oro si fusiona tutto il resto che si fonde prima. Allora si scarta tutto a misura che si va fusionando a temperature più alte, perché, per esempio, si manda a temperatura del ferro e si fa uscire dal crogiolo il ferro. Poi si manda a temperatura dell'oro, al fine, se si sospetta che ci siano altri metalli, si fusiona a temperatura inferiore ogni volta, e quando si arriva alla temperatura di fusione dell'oro, le pepite d'oro si sciolgono e si ottiene una piccola pepita fusionata di oro puro. Altre scorie, invece, non importanti si bruciano, come la terra, i detriti solidi, le pietre, eccetera. Quindi è un invito a tutti e tutti voi a fare una petizione al vostro comune perché vi permetta di cercare nei corsi d'acqua, nei fiumi, nei ruscelli, nei torrenti, l'oro. perché in altri paesi lo fanno e vendono licenze e nel nostro, come al solito, si sta indietro di centinaia d'anni. Tanti saluti dal vostro San Ten Chan e, mi raccomando, seguitemi in YouTube che ultimamente ho caricato molti video. Ciao! Ciao!